La carpe in nasa mangiano mais e bigatto, l'intelligenza del pesce, prese poc'anzi, come il pesce! Guarda, allucinanza! Vanno avanti! Poi adesso 10mm. Vanno in competizione alimentare! e' un po' il tuo panchetto pure fanno eh ero partito pure vado a muovere una va a tutta una boccata eh vai Manuel si no no sono buoni e' tu sai quale sia vai vai di gatto eccole qua se stanno ammazzati il bagnale mi lavo dovuto dire mai guarda, sotto il puntino che è questo, questo qui, è pieno, non è poco, si ma guarda il punto l'aereo ma quello è un bocchino una scudata di tre nessuno ci crederebbe è tutto nessuno però riscuda quello tutti i frutti non gradisce non gradiscono tutti i frutti però se lo mangliano uguale vediamo un po' con lo giallo banana no, naturale, vaniglia vaniglia a me non c'è buccholi, guardi 20,92 euro a parte di pepe, vabbè, sappiamo tutti che bucchino uno con lo stendere di 300-400 euro ma, insomma scusate che è una vaniglia io pure se ti vuoi mettere, che ne so, una camicia, qualcosa, c'è niente ultimi due chi è il proprietario del suo locale che ha detto non c'è un giacchetto o qualcosa io, c'ho io c'ho io una cosa tra vediamo anche due pellette galleggianti no, magari uno non crede che è una nassa eccola qua vediamo anche due pellette galleggianti eccola qua pellette alla betaina si, non l'ha fatto le demanze poi c'è la pagina di risposta dei lettori sto a manzolini ok stop ok, ultima bocconata mi lancio la tasca sembra una sciacchetta ma che è qui ma che è qui ma prima ce l'hanno proprio per il maglio e poi è anche più attivizzato e per